4 luglio 1957 viene presentata al pubblico la Fiat Nuova 500 battezzata Nuova per distinguerla dalla Topolino per il progettista Dante Giacosa è lo specchio della razionalità costruttiva e dell'economia ma il lancio è un vero fiasco e la Fiat già a novembre vara la seconda serie la fortunatissima avventura della 500 si chiude il primo agosto 1975 ultimo telaio 5.231.518 il 4 luglio